Non c'è una minaccia specifica che riguardi la città di Venezia. Fatto sta che la Polizia di Stato ha diffuso una circolare interna in cui si segnala la possibilità di un attacco terroristico di matrice islamica tra il 2 e il 6 gennaio contro obiettivi civili in Italia. L'attentato recita l'ordinanza giunta anche alla questura veneziana potrebbe essere realizzato con droni e autovetture già state oggetto di furto. E così proprio nei giorni di festa caratterizzati da un maggior affollamento in spazi pubblici si rafforzano i piani di sicurezza con il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine. Novità nel modus operanti è l'attacco con l'utilizzo di droni modificati in grado di causare danni con piccole cariche esplosive. Ma non si tratta appunto di una specifica minaccia alla città lagunare, ma come ha detto il procuratore antiterrorismo di Venezia, Delchi Di Polito, la guardia resta sempre alta. Si chiama servizio di whistleblowing e da oggi è attivo anche all'Università Ca' Foscari, strumento peraltro già attivo da un paio di mesi in comune a Ca' Farsetti. Si tratta di un sistema di segnalazione anonima di illeciti, ossia è possibile inviare alla casella di posta elettronica dell'Università un modo scaricabile dal sito, compilato in tutte le sue parti, con cui i dipendenti pubblici, ma come nel caso di Ca' Foscari e anche studenti, possono segnalare comportamenti sospetti che meritino eventuali verifiche e sanzioni. Sì, perché la segnalazione deve essere ritenuta meritevole e di approfondimento. A controllare la mail sarà esclusivamente il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Università. Questo per garantirne la riservatezza. Ma una volta accertata la più che probabile fondatezza, potrebbe essere aperto un procedimento disciplinare nei confronti del colpevole del comportamento illecito. E l'identità del segnalante potrebbe essere comunque svelata, quando sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. A Porto Gruaro, precisamente in via Zambaldi, questa mattina alle 5.15, i vigili del fuoco sono stati allarmati per un incendio scaturito all'interno di un salone di bellezza. Ancora in corso gli accertamenti sulla matrice del rogo. Sembrerebbe trattarsi però di cause di natura elettrica, probabilmente un cortocircuito del solarium, che ha coinvolto e distrutto anche altri costosi macchinari presenti negli ambienti. Altro incendio questa volta a Mestre. Ieri sera alle 20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bissa per dormare le fiamme in corrispondenza del Tribunale dei Minori. Si è trattato però di un piccolo rogo. Questa mattina a Venezia, in campo Santo Stefano, all'interno di un bar, un uomo ha perso la vita per un probabile infarto. All'improvviso è collassato a terra davanti a decine di persone, sul posto immediati i soccorsi che hanno tentato l'impossibile. Ma l'uomo è deceduto poco dopo. Sono ancora tante le persone costrette a letto dall'influenza, febbre e raffreddore per bambini e adulti. Epidemia che sembra aumentare con un picco previsto per metà gennaio. Per ora, soprattutto per quanto riguarda i piccoli, c'è uno stallo, legato anche alla chiusura delle scuole per le feste natalizie, mentre aumentano i casi segnalati nella fascia d'età adulta. Centrato a Mestre, nella tabaccheria di via Pasqualigo, il primo 5 dell'anno 2017 a Super Enalotto. Più di 35.000 euro la vincita. Altro centro di pari valore anche a Roncadi, in provincia di Treviso. Agipro News rifenisce che il 6 del Super Enalotto non si vede dal 3 febbraio 2015, quando è stato centrato un jackpot da 4,9 milioni di euro a San Biagio di Callalta, sempre in provincia di Treviso. La sestina vincente ora vale 70,7 milioni, il decimo premio più alto nella storia del gioco. Da oggi partono i saldi nei tanti negozi del territorio veneziano. Saldi invernali e quindi caccia agli affari. Ma secondo la Federazione Moda Italia di Confcommercio Veneto, i saldi non saranno più così strepitosi. In media, alla fine della stagione e degli affari invernali, ogni persona avrà speso 140 euro, ogni famiglia 350 euro. Colpa anche della cosiddetta crisi economica, ma forse soprattutto dell'esplosione dell'e-commerce, ossia di quel sistema che prevede l'acquisto dei beni online. Per la pagina sportiva si parla di basket. L'umana Reier, dopo la deludente partita del 1 gennaio contro Sassari, è stata sconfitta anche in Champions contro il Maccabee Round Media, partita giocata in Israele. Punteggio finale 79-61. Per la squadra oro-granata comunque rimane in piedi la corsa per il passaggio del turno. A complicare la partita, oltre alle grandi assenze come quella di Higgins, Tonute e Filloy, anche la stanchezza fisica e le basse percentuali nel tiro da tre. Per la squadra oro-granata, oltre alle grandi assenze come quella di Higgins.